Musica Bene, eccoci insieme anche oggi. L'ospite è Cosima Spinelli, scrittrice di Marcon, provincia di Venezia. In questa puntata parleremo di un romanzo in fieri di pubblicazione, ma parliamo anche di un nuovo metodo di approccio al mondo letterario che trovo davvero interessante. Il promotore si chiama Book e Book, ed è una casa editrice, che mette insieme il crowdfunding, cioè la raccolta di fondi attraverso la rete, con la voglia di scrivere, ma in qualche maniera mi piace pensare che è anche un po' una sorta di talent, perché in questa maniera gli scrittori si mettono in gioco. Semplificando, e la presenza di Cosima Spinelli qua ne è anche motivo, una persona che ritiene di aver scritto qualcosa di interessante, che ama farlo conoscere, mette prima una sinossi e poi lo stesso romanzo in rete e quando raggiunge le 200 prenotazioni online, raggiunge il golden goal, giusto? Il goal inizialmente. Il goal iniziale. Vale a dire, la casa editrice si impegna a pubblicarlo. Dopodiché c'è un secondo step, che invece si chiama Overdoll, che oltre alla pubblicazione garantisce anche la promozione del libro. Quindi in qualche maniera, Cosima Spinelli è anche qua per dire, per raccontarci sul libro, in modo che qualcuno se ne appassioni e possa voi evidentemente prenotarlo. È così un po' il meccanismo? Assolutamente sì. La Book and Book è una giovanissima casa editrice, che è proprio nata nel 2014, quindi veramente fatta da ragazzi giovani con questa idea innovativa di unire appunto il crowdfunding con l'editoria tradizionale e soprattutto con la buona qualità dei libri. Perché non è facile accedere comunque alla fase finale. Non è facile, assolutamente. I libri veramente sono, le selezioni sono molto serie, sono veramente, diciamo, la selezione che viene fatta è veramente attenta ma soprattutto poi a dire la propria sono i lettori perché nel sito si può scaricare gratuitamente l'anteprima del romanzo e lì decidere se sostenere, innamorarsi o meno di un progetto della pubblicazione di questo libro. Stai composta, il mio romanzo ha raggiunto il gol, quindi la pubblicazione ormai è assicurata, però insomma se riusciamo... Adesso puntiamo al golden goal, all'over goal, come si chiama. Puntiamo all'over goal, quindi anche a far conoscere il prodotto il più diffusamente possibile nelle librerie. Mi piace anche sottolineare che questo meccanismo di pubblicazione editoriale è quello che permette all'autore di non dover compartecipare alle spese perché adesso è noto che questa è la prassi per lo più usata nel mondo editoriale a meno che uno non sia una grande firma, insomma. Ma per coloro che si avvicinano al mondo della letteratura, ma le case editrici chiedono quantomeno una compartecipazione alle spese. In questa maniera no, perché uno parte avendo già appunto nel caso almeno 200 prenotazioni. Poi insomma Cosima Spinelli è davvero, devo dire, una scrittrice, perché tra i materiali che mi ha mandato c'è anche una sorta di risposta a chi gli ha chiesto ma perché i pubblichi con book and book? E lei prende in prestito parole di gramellini che proprio non sono semplici però. Sì, infatti. Perché tu non sarai un predatore ma uno che sa quello che vuole. Sì, uno che sa. Un gallo da combattimento con un cuore d'artista. Detesto la competizione, ogni spirito creativo la detesta, però è attratto dalla possibilità di esplorare il proprio talento. Sì, è una necessità che arriva quando piano piano prendi coscienza non solo di una passione ma anche di un talento e quindi hai il desiderio di metterti alla prova. E secondo me la book and book è una bellissima opportunità in questo senso prima di tutto per la grande selezione che fanno ma soprattutto perché ti mette direttamente a confronto con il lettore. E questa è ovviamente la soddisfazione più grande per chi cerca di fare l'autrice. Proviamo adesso a far innamorare chi ci guarda di questo libro che viene definito dall'autrice un romanzo di formazione e psicologia rivolto principalmente agli adulti. Sì, è una cosa diversa da romanzo di formazione letterariamente come è considerato di solito perché non si ferma diciamo ai temi classici del confronto con i genitori del primi innamoramenti giovanili del cercare il proprio posto nella società ma va ben oltre arriva anche a immaginare come diventano le persone conseguentemente quindi affrontando anche temi a volte anche piuttosto forti come i temi del disagio sociale piuttosto che diciamo l'omofobia nello specifico la molestia quindi anche nelle sue accezioni più negative e per arrivare poi anche a immaginare queste persone i protagonisti del romanzo in questo caso che sono quattro amici che si ritrovano per una cena si ritrovano per una cena che poi per tutta una serie di circostanze si trovano a dover passare un'intera notte insieme dato di fatto che non ne usciranno come sono entrati quindi perché se la raccontano si mettono insieme le esperienze diciamo che andremo a conoscere attraverso la voce narrante di una ragazza di una giovane donna contemporanea andremo a conoscerli in tutto il loro percorso che parte dagli anni 70 per arrivare ai tempi nostri e il tutto avviene attraverso proprio un linguaggio colloquiale quasi un flusso di coscienza quindi avviene praticamente in maniera molto intima ma anche sempre comunque supportata da quello che è uno dei temi principali del romanzo l'amicizia io sono convinta che l'amicizia sia fondamentale perché noi possiamo imparare tantissimo ma se non ci confrontiamo con l'altro e non facciamo esperienza di questo tutto diventa una bella teoria ma poca sostanza e pratica devo dire che Cosima Spinelli oltre a essere una brava scrittrice è anche una brava promoter perché sempre nelle note che mi sono state inviate c'è una frase che dice vorrei rassicurare i lettori che malgrado i temi forti trattati insomma la lettura è scorrevole si è molto scorrevole che era partita alla grande cioè il romanzo di formazione e di psicologia ma in realtà vuole dare dei messaggi positivi e tutto anche il tema più impegnativo è sempre trattato con amorevolezza e filtrato sempre attraverso l'amicizia a noi piace sempre quando abbiamo l'opportunità di avere ospite uno scrittore o una scrittrice conoscerli un pochino di più che tipo di scrittrice è Cosima Spinelli? penna, computer, macchina da scrivere? che so? diciamo un po' tutto nel senso che il mio modo arriva da un'intuizione che può essere semplicemente un incontro con una persona che al momento magari sembra che non mi colpisca particolarmente poi invece sento che mi ha particolarmente toccato e quindi può essere inizialmente due righe buttate giù per poi lavorarci sopra maggiormente e poi tutto un lavoro di rielaborazione che chiaramente cerco di fare più al computer perché mi diventa un po' più semplice quindi soprattutto una scrittrice di ispirazione sì, ho scoprito che sono quelli diciamo creativa scrittori che amano l'ispirazione altri che invece lo prendono proprio come un lavoro e quindi ogni mattina si mettono davanti al computer diciamo che ci vuole sicuramente metodo e possibilmente anche il tempo per approfondire per studiare perché insomma non è che ci si improvvisa proprio a digiuno quindi ci vuole sicuramente la struttura avere idea di dove si sta andando ma anche lasciarsi guidare da quella che è la propria intuizione e la propria creatività C'è un momento della giornata in cui le scappa di più da scrivere? Di notte io scrivo principalmente di notte sì Un romanzo come questo era un romanzo che aveva già una sua struttura nel momento in cui ha messo per la prima volta insomma diciamo la penna sulla carta o è cresciuto con il passare del tempo? Sono partita sicuramente dai quattro personaggi che sono state la fonte di ispirazione Assolda personaggi di fantasia o comunque con dei riferimenti alla realtà? Ma no, sono sicuramente a me piace scrivere di cose che conosco trovo che sia più reale poi ovviamente Pericoloso essere le amiche insomma Diciamo che può essere pericoloso addirittura piacevole per alcuni Chiaro, ci mancherebbe E da lì chiaramente poi bisogna sempre come dicevo prima tenere presente che insomma non si scrive un romanzo alla cieca quindi l'incipit avere un attimino idea di quelle che può essere la struttura i vari climax la conclusione cioè bisogna sapere anche dove si vuole andare a parare Dove è ambientata questa storia? Abbiamo detto Scrittrice di Marcono Sì, sì, sì assolutamente A Marcono per la prima volta Marcono è al centro di un romanzo bisogna sostenere l'altra forza Sì, ambientato comunque in Veneto si parla molto di Marghera quando tratto alcuni temi un pochino più diciamo forti perché appunto c'è un personaggio che è cresciuto e ha vissuto delle situazioni in quella zona e però tutta tutta la serata viene vissuta sui colli trevigiani quindi abbiamo un po' l'atmosfera un po' più rilassata della campagna del verde dei colli Quindi anche la platea dei direttamente interessati si amplifica Sì, sì, certo Ecco, per concludere com'è che adesso funziona il meccanismo per poter aiutare Cosima Spinelli ad avere anche la promozione del libro visto che la pubblicazione l'ha già ottenuta Se effettivamente c'è un po' di curiosità io invito ad andare sul sito Buche e Buche È complicato l'abbiamo fatto passare in sovraimpressione perché era abbastanza Grazie Comunque la casa editrice si chiama Buche e Buche quindi partendo da lì insomma in qualche maniera il book tutto attaccato e da lì si cerca Stai Composta semplicemente fra i titoli in promozione e una volta letto l'anteprima se avete piacere prenotarne una coppia quindi preordinare una coppia per me è già una fonte di riconoscimento è una piccola spinta è un aiuto molto un sostegno importante Tra il serio e il faceto ma se un autore se ne compra a 190 non si può fare ecco voglio capire com'è ci sono dei controlli molto rigidi da parte della proprio della casa editrice tant'è vero che vengono chiesti viene chiesta la mail e se sono io a inserire diciamo i dati di chi acquista viene chiesto anche il numero di telefono e fanno delle telefonate a campione quindi proprio verificano verificano che non ci sia da parte dell'autore un inefficiale di quello che è il senso vero della campagna di Crowfandi cioè capire effettivamente la preferenza del lettore Per concludere ricordando ancora stai composta il titolo del libro l'ispirazione da dove è arrivata? Perché? L'ispirazione diciamo risiede nella domanda che poi lascio al lettore di fondo che cioè riusciremo ad andare oltre quelle che sono le nostre ferite di infanzia cercando di capire allora riusciremo a andare oltre le ferite di infanzia che abbiamo in qualche modo subito attraverso la formazione della nostra personalità o riusciremo ad ingannare quello che può essere stato l'incantesimo di madre vita cioè madre vita effettivamente io la chiamo madre vita poi c'è chi lo chiama destino c'è chi lo chiama entità superiore dio universo però insomma possiamo andare oltre a questo quello che è il nostro destino riusciamo a fare un po' il punto della situazione e prendere effettivamente in mano la nostra vita grazie a Cosima Spinelli che dice anche di fare presto perché alla fine il treno non passa sempre insomma quando passa il treno della vita bisogna sapere cercare di montarci si conclude la campagna il 25 di agosto ah no vabbè ma parlavo per prestito rispetto alle cose della nostra vita ah sì sì la campagna si conclude il 25 di agosto mi pare una buona conclusione il countdown è sempre alle porte per cui siamo siamo invogliati a dover affrontare le cose quanto prima grazie a lei Cosima Spinelli è scrittrice di Marcon provincia di Venezia tra le protagoniste di questa nuova di questo nuovo sistema di editoria si chiama Buc e Buc la casa editrice la si può aiutare appunto andando a leggere il romanzo e se piace prenotando grazie a voi alla prossima grazie grazie a voi grazie a voi